Intervenire sul tema della sicurezza sul lavoro con azioni incisive, controlli serrati e trovare soluzioni concrete. Questo in sintesi ciò che chiedono i sindacati di categoria del messinese dopo che ieri si sono verificati due incidenti sul lavoro in provincia. A San Filippo del Mela due operai, dipendenti della ditta che sta effettuando i lavori di riqualificazione della ex scuola elementare di Piazza Fulci, mentre stavano lavorando su un ponteggio a causa di un movimento anomalo del braccio meccanico che stavano sostenendo, sono stati sbalzati dalla piattaforma, finendo rovinosamente a terra da un'altezza di circa due metri. Entrambi i soccorsi sono stati condotti al Fogliani di Milazzo. Uno ha riportato frattura alle costole, l'altro invece ha battuto la testa sul selciato provocandosi una ferita importante ed è stato trasferito al Policlinico di Messina. Il cantiere è stato delimitato e sono scattati gli accertamenti del caso affidati ai carabinieri della compagnia di Milazzo. A Torregrotta, sempre ieri mattina invece, un'automobile è impattato contro un ponteggio provocando la caduta di due operai intenti a lavorare sull'impalcatura. Nonostante i controlli e gli inviti al rispetto delle normative sulla sicurezza dei dipendenti, gli infortuni continuano senza sosta. Scrivono in una nota Antonino Alibrandi, segretario generale della Cisle Messina e Nino Botta, segretario generale della Filca Cisle Messina. In attesa di capire le dinamiche che hanno provocato l'incidente, chiediamo alla Prefettura di convocare il tavolo sulla sicurezza istituito con le parti sociali per fare il punto della situazione, discutere e trovare soluzioni in merito. Dura presa di posizione anche da parte della Fene alla Wille Tirrenica. Registriamo purtroppo una pesante escalation di incidenti sul lavoro che grazie a circostanze fortuite non hanno avuto un esito nefasto e mortale. Nei due incidenti di San Filippo e Torregrotta, seppure con dinamiche molto diverse, è emersa la necessità di intervenire con ulteriore incisività sul tema della sicurezza, dichiarano Ivan Tripodi, segretario generale Wille Messina e Pasquale Devardo, segretario Fene alla Wille Tirrenica. È una questione di rimente che impatta pesantemente sulla democrazia. Auspichiamo che le autorità proseguano senza sosta le azioni di controllo e contrasto ad ogni violazione delle norme di sicurezza. Ai lavoratori gli auguri di una pronta guarigione, concludono i due sindacalisti.